Padre Raul Chinone Sareiano, parroco di El Baril vicino a Zacatecas in Messico, è stato rapito e assassinato. Giovedì scorso il sacerdote di 47 anni è stato trovato morto nel comune di Via de Ramos, sull'altopiano Potosino. Da subito la polizia ha parlato di omicidio, salvo poi cambiare versione dopo che la procura ha raccontato che i risultati dell'autopsia dicono che padre Raul sarebbe morto a causa di una crisi respiratoria. Una versione questa che tuttavia non convince la comunità locale. Padre Raul da sempre era a fianco agli ultimi, ai più deboli, a quelli che qui sono le vittime principali di un sistema di corruzione e violenza che recluta proprio tra i poveri la bassa manovalanza da sfruttare e poi distruggere. A questo si oppongono i sacerdoti messicani da anni in prima linea e vittime di terribili repercussioni. Dal 2012 sono 22 i presbiteri messicani rapiti e uccisi ferocemente dalla mafia, dalle bande criminali, dai trafficanti di droga che agiscono impuniti in alcune zone del paese. Con l'appoggio di interi rami delle istituzioni, martiri che accompagnano il destino del loro popolo in un paese dove nel 2017 si è registrato il più alto numero di omicidi degli ultimi dieci anni, 29.168 persone uccise. La situazione nello stato centrale americano è completamente fuori controllo, in mano ai narcos e chiunque rappresenti un'alternativa al loro potere viene spazzato via. Come le suore della diocesi di Chilpacingo, nello stato di Guerrero, il più pericoloso dell'intero paese, con i suoi oltre 2000 omicidi l'anno. Per convincerle ad abbandonare la loro missione educativa in uno degli istituti scolastici più grandi e antichi della regione, i genitori di una di loro sono stati fatti a pezzi e messi in sacchi dalla spazzatura. Un messaggio chiaro e inequivocabile.